Abbiamo tenito alla call per posteri scientifici lanciata in occasione della 14esima conferenza nazionale di statistica, presentando il poster dedicato alla campagna social e brand reputation con Oshistat. Il progetto è finalizzato a costruire una social brand identity e coinvolge i follower facendoli sentire parte di una comunità basata sull'autenticità e la fiducia. A questo progetto hanno collaborato tutti i membri del gruppo social media di Oshistat, Giovanni Praticchizzo, Lidia Fagiolo, Giulia Peci, Giorgia Proietti Pannunzi, Cristian Spazioso, anche io Giulia Cimini in qualità di consulente esterno al gruppo social media, mentre il progetto grafico è stato curato da Sofia Barletta, grafico Oshistat. Per agginare e per combattere la disinformazione, ma anche per creare una buona reputazione del nostro brand, è necessario ascoltare la rete tramite azioni mirate e azioni costanti di social media listening. Il social media listening infatti ci permette di capire che cosa i nostri utenti ancora non sanno di noi, oltre ovviamente a prevenire tutta una serie di possibili scenari di crisi. Il social media listening infatti agisce sul valore percepito di un brand e noi abbiamo cominciato proprio da questo, abbiamo cominciato facendo un monitoraggio attento, un monitoraggio accorto e costante della rete e abbiamo capito che ci sono dei gap informativi che ancora riguardano i nostri stakeholder, quindi non tutto ciò che l'Istat effettivamente è ed effettivamente vuole comunicare è arrivato alla nostra utenza e su questo quindi abbiamo lavorato per creare una campagna di comunicazione prettamente social che abbiamo infatti veicolato attraverso tre canali social istituzionali, in particolare Twitter, LinkedIn ed Instagram. Su Twitter attualmente abbiamo raggiunto quasi 85.000 follower, su LinkedIn siamo a quota oltre 26.000 e su Instagram abbiamo 21.000 follower. In un'era in cui la disinformazione digitale talvolta mina la fiducia degli utenti nei confronti di un dato brand fosse anche istituzionale quale è il nostro, si rendono necessarie delle azioni di comunicazione corporate mirate a rinforzare la reputazione di quest'ultimo e se il problema è la disinformazione digitale allora la risposta nel nostro caso è l'informazione statistica ufficiale. Con questa campagna di social web reputation abbiamo appunto puntato a spiegare ai nostri pubblici l'istat, la sua mission e la sua vision nel modo più semplice e immediato possibile per accrescere la conoscenza di quel che è e fa l'istat proprio allo scopo di consolidare la fiducia dei nostri follower nei confronti dell'istituto e del suo operato. La fiducia e l'affidabilità sono la base per poter costruire una comunicazione pubblica basata su informazione statistica attraverso i luoghi del web sociale. In questo contesto la campagna Conosci Istat ha avuto un ruolo molto importante, un ruolo fondamentale, quello di poter far conoscere il ruolo di istat all'esterno anche ai non addetti al lavoro attraverso un dialogo autentico e oltretutto l'intera campagna è stata interamente ideata, creata, sviluppata all'interno di istat. La strategia di comunicazione è partita dalla individuazione di 14 topic che potessero coinvolgere emozionalmente e informativamente i nostri follower e far luce su quegli aspetti centrali e importanti in grado di raccontare le diverse facce, i diversi aspetti, le diverse azioni del nostro brand. E quindi siamo partiti da etiche e autonomia per passare al programma statistico, a qualità, competenza e trasparenza, pubblica utilità, informazione statistica, la statistica ufficiale affidabile, la collettività, la mission, il segreto statistico, la privacy, la promozione della cultura statistica, la produzione statistica e i censimenti permanenti. L'intera campagna è stata connotata da una linea grafica dedicata, realizzata ad hoc, con un impatto ed un'eleganza che metteva sempre a messa o sempre al centro il topic di riferimento che veniva affrontato ogni settimana per ben quattro mesi. Noi abbiamo raccontato l'intera campagna sui diversi social attraverso un tono di voce dedicato e quindi dei copy scritti ad hoc per ciascun linguaggio e per ciascuna tipologia di follower che ci segue sui nostri social e con l'hashtag dedicato conosci Instagram. Per quanto riguarda i risultati della campagna, su Instagram sono stati raggiunti 28.000 utenti e i post hanno ottenuto 483 mi piace. Su LinkedIn le card dedicate hanno ottenuto 18.000 visualizzazioni e 220 reazioni. Su Twitter le visualizzazioni sono state 56.622 e i post hanno ottenuto 122 mi piace.